di queste trasmissioni in rapporto con la durata assai varia degli studi trascendentali mi induce a procedere senza ordine così dopo aver fatto ascoltare lo studio numero 8 salto il numero 9 passo al numero 10 in fa minore le oscillazioni di durata nella prima versione sono abbastanza limitate nella esecuzione di thomas reina si va dal minuto esatto del primo studio ai 3 minuti e 38 secondi del nono studio nella versione definitiva le durate oscillano tra il minuto esatto del primo studio e i 10 minuti e 50 secondi dell'ottavo secondo l'esecuzione di jorge bolet e tra i 51 secondi del primo studio e i 9 minuti e 44 secondi dell'undicesimo studio secondo l'esecuzione di lazar berman la durata complessiva dei 12 studi trascendentali oscilla a seconda degli esecutori tra i 62 63 e i circa 70 minuti durate non concertistica perché un programma di recital va sui 75 minuti di musica bisogna dunque aggiungere qualcosa e bisogna spezzare la serie degli studi con un intervallo i concertisti che eseguono i 12 studi dividono il blocco dei 12 in due sottoblocchi studi numero 1 8 studi numero 9 12 oppure studi numero 1 7 studi numero 8 12 qualcuno ha fatto precedere ai 12 trascendentali i tre studi da concerto il lamento la leggerezza un sospiro qualcuno ha fatto precedere o seguire la fantasia sul don giovanni di list qualcuno le variazioni opera 35 di beethoven michelle d'alberto ha modificato l'ordine di list iniziando con peisage e immettendo altri pezzi di lista nella serie fino ad ora non sembra che si sia trovato un ordine che concertisticamente sia veramente efficace sarebbe opportuno se il concertista regge la fatica che tutta la serie venisse seguita di seguito e che il recital comprendesse solo gli studi trascendentali veniamo adesso allo studio numero 10 in fa minore la prima versione è tecnicamente crameriana tranne che in alcuni punti ad esempio crameriano è l'inizio ma in questo passaggio le estensioni della mano destra tendono a travalicare la tecnica crameriana sul punto culminante la mano sinistra incrocia sopra la mano destra con un bellissimo effetto gestuale che il mio ascoltatore non potrà purtroppo verificare tutta la parte conclusiva esalta del resto della tensione virtuosistica in termini che annunciano qualcosa di nuovo ascoltiamo ora da thomas rain tutto lo studio grazie a tutti 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 e a tutti grazie 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 grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti e a tutti e a tutti e a tutti e a tutti grazie 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 a tutti e a tutti grazie 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 a tutti il punto grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti e a tutti grazie 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 a tutti